La Consob già dal dicembre 2013 era a conoscenza della gravissima situazione in cui si trovava Banca Etruria. Banca Italia aveva infatti fornito documentazione e informazioni alla Consob, quindi le sanzioni combinate ad amministratori e sindaci per le supposte e mancate informazioni sono frutto di un provvedimento avviato tardivamente. Questo emerge dalle motivazioni della Corte d'Appello di Firenze che ha annullato alcune sanzioni emesse dall'autority di borsa nel 2017, come riportato dall'Ansa. Sanzioni per le supposte mancate informative contenute nel prospetto relativo all'aumento di capitale effettuato nel 2013 per rafforzare il patrimonio di Banca Etruria. Dalle motivazioni depositate ieri dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze presieduta dal giudice Edoardo Monti di cui è stato relatore il magistrato Domenico Paparo emerge che gli elementi informativi forniti da Banca Italia alla Consob avrebbero delineato una situazione tale da fornire gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare la verifica ispettiva di spettanza della Consob che invece è iniziata due anni più tardi, solo dopo la risoluzione della banca, evento che ha avuto notevole clamore mediatico. In sostanza si legge nelle motivazioni citate anche dall'agenzia La Press essendo Consob venuta a sapere da Banca Italia il 6 dicembre 2013 che Banca Etruria era sull'orlo del commissariamento, a meno che non si fondesse con una banca più grande delle due luna o si riteneva o quantomeno si sospettava che il prospetto pubblicato pochi mesi prima non avesse dato contezza di ciò e quindi sarebbe stato falso e fuorviante ma allora Consob doveva cominciare subito l'indagine oppure, proseguono i giudici, si accertava che il prospetto aveva rappresentato correttamente al pubblico degli investitori la situazione economica della banca emittente ma allora non si poteva irrogare alcuna sanzione. Grazie. 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 Grazie.